Si è svolta il 10 settembre una seduta straordinaria congiunta del Consiglio regionale del Consiglio delle Autonomie Locali. Le due assemblee sono chiamate a confrontarsi sullo stato degli enti locali in seguito all'approvazione del decreto legislativo 95 2012 sulla spending review. Durante il dibattito è stato espresso rammarico per la scelta della decretazione d'urgenza che impone tempi brevi e limitati margini di iniziativa alle autonomie locali.